Un saluto a tutti, sono Oliver e oggi voglio parlarvi della conversazione che ha avuto il Papa Francesco con la ISS. Una conversazione con dettagli molto interessanti. All'inizio parlano della posizione dell'essere umano nell'universo. Alla luce delle sue esperienze nello spazio, qual è il suo pensiero sul posto dell'uomo nell'universo. Penso che il nostro obiettivo qua è quello di conoscere, il nostro essere è quello per riempire la conoscenza, capire quello che ci sta attorno e tra l'altro è una cosa interessante perché con più conosciamo, con più ci rendiamo conto di conoscere poco. Come si vede non parlano mai della creazione descritta nella Genesi e dal suo posto lasciano una porta aperta sulla questione dell'origine dell'essere umano. Più avanti vedremo perché lo fanno. Ma in questa sala, da cui vi sto parlando, si trova, come vedete, un arazzo artistico ispirato al celebre verso con cui Dante conclude la Divina Comedia, l'amor che muove il sole e le altre stelle. Mi è sembrato abbastanza curioso questo quadro. Ricorda la rappresentazione cosmologica delle civilizzazioni antiche, le quali credevano che la Terra era un piano immobile con una specie di coperta solida nel cielo. Che senso ha per voi chiamare amore la forza che muove l'universo? Nel mio tempo libero ascolto molti audiolibri ed uno di quelli è stato il piccolo principe di Antoine de Saint-Eusk-Péry. Il miglior esempio di cos'è l'amore si trova in questo libro perché c'è un piccolo ragazzo che è pronto a dare la propria vita per tornare, proteggere e prendersi cura dell'amore per il suo unico fiore, la creatura più vicina a lui. E questo è amore per me. Grazie. L'astronauta Lorusso parla del piccolo principe, un racconto classico molto conosciuto. Però quello che la maggior parte della gente non sa è che l'autore del piccolo principe era un massone. Infatti tutta la storia in realtà è la filosofia massonica. Ed un'altra cosa che ha attirato la mia attenzione della risposta dell'astronauta russo è che si riferisce al piccolo principe come esempio dell'amore e del sacrificio per gli altri. Senza mai menzionare la storia di Gesù che è la più conosciuta quando si parla di sacrificio. È curioso che questo astronauta che sta parlando è quello che alcune settimane fa ha insultato i terrapianisti. Durante un'intervista che stava facendo con un altro astronauta gli hanno chiesto cosa risponderebbe o che direbbe ad un terrapianista. Questo è quello che ha detto. Di fatto ultimamente sono apparsi molti sostenitori della terrapiana. Abbiamo visto molti video che stanno circolando su internet. Pertanto Alexander che potrebbe dire a questa gente ci conferma una cosa o l'altra? Secondo me i sostenitori della terrapiana stanno facendo un trollaggio molto professionale. non credo che la gente possa essere tanto idiota. francamente non ho nulla da aggiungere alle parole di Sergei. è molto sorprendente che gli astronauti della ISS i quali in teoria dovrebbero sapere molto sulla teoria heliocentrica siano incapaci di apportare un solo argomento per difendere questa teoria e dal posto di questo cadono nell'errore ad hominem che consiste nell'attaccare l'informatore anziché le informazioni. Proseguendo nella conversazione col Papa mi è sembrato abbastanza sospetto il modo in cui parlava l'astronauto alla fine della sua risposta in una forma artificiosa e robotica come se stesse leggendo un copione. Questo è un esempio per il mondo e per tutta l'umanità. Stiamo lavorando assieme per avere più accesso nello spazio. Molte più persone possono vedere questa prospettiva dallo spazio e forse il futuro l'umanità sarà molto migliore di quella che abbiamo adesso e molte più persone possono vedere da questa prospettiva dallo spazio e forse il futuro l'umanità sarà molto migliore di quella che abbiamo adesso. Proseguono parlando di come sia sottile l'atmosfera e di quanto sia fragile la Terra. Vediamo la pace e la serenità del nostro pianeta mentre ruota intorno a 10 km al secondo e non ci sono frontiere, non ci sono conflitti, c'è solo pace. Si vede la sottigliezza dell'atmosfera e ci rendiamo conto di quanto sia fragile la nostra esistenza qui. La Terra è troppo fragile, è un momento che passa 6 km al secondo, ha detto il dottor Nespoli. È una cosa molto fragile, fina l'atmosfera. Stranamente la conversazione che è stata fatta in precedenza dall'altra Papa con la ISS nel 2011 hanno parlato anch'essi della sottigliezza dell'atmosfera e della fragilità della Terra. È come se stessero riciclando lo stesso copione. Come è la situazione sulla Terra? Vediamo la scienza come un fenomeno al quale dobbiamo prestare molta attenzione. Sua santità, è un onore parlare con lei. Ha ragione, noi da quassù abbiamo un punto di vista stra privilegiato. Da una parte possiamo vedere com'è incredibilmente bello il pianeta che ci è stato dato, ma dall'altra parte possiamo vedere chiaramente quanto è fragile. Solo l'atmosfera, per esempio, l'atmosfera vista dallo spazio è sottile. La cosa è che questo strato sottile è tutto ciò che separa tutte le creature viventi dal vuoto dello spazio. È tutto quello che ci protegge un pensiero sovrano. Non solo è fisicamente impossibile che una protezione tanto sottile separi l'atmosfera terrestre dal vuoto dello spazio, ma anche l'idea che la Terra sia un luogo molto fragile, sperduto nell'universo, contraddice totalmente la creazione descritta nella Genesi dove si dice che la Terra è stata disegnata in forma intelligente da un creatore, protetta in cielo da una cupola e posta fermamente sulle sue basi, tanto che non può muoversi. Pertanto è molto sospetto che il Papa decida di appoggiare e promuovere una teoria che contraddice così chiaramente le scritture. Il Papa precedente si riferì alla scoperta di nuovi luoghi nello spazio. Cari astronauti, sono molto contento di avere questa straordinaria opportunità di parlare con voi durante la vostra missione. L'umanità sta sperimentando un periodo di crescita, di rapido progresso, di conoscenza scientifica, di applicazioni tecniche e in un certo senso voi siete i nostri rappresentanti che stimolate l'esplorazione dell'umanità per nuovi luoghi e possibilità per il nostro futuro. Donald Trump nel suo discorso dell'inaugurazione ha detto che nei prossimi anni si andrà a scoprire il mistero dello spazio. Ci troviamo nella nascita del nuovo millennio, pronti per rivelare il mistero dello spazio, per liberare la Terra dalla miseria e dalla malattia, ottenendo il massimo delle energie, delle industrie e delle tecnologie di domani, pronti per rivelare il mistero dello spazio, pronti per rivelare il mistero dello spazio. Questa è la ragione per cui lasciano sempre l'interrogativo sulla domanda dell'origine o della creazione dell'essere umano. Perché il piatto dell'elita è di annunciare in un futuro prossimo la scoperta di una razza extraterrestre che potrebbe averci creati e che confuterà la creazione descritta nella Genesi, che unificherà tutti i paesi sotto il nuovo ordine mondiale per combattere uniti contro questa minaccia aliena. Forse abbiamo bisogno di una minaccia universale esterna, occasionalmente penso rapidamente. Le nostre differenze mondiali svaniranno se affrontassimo una minaccia aliena dall'esterno del mondo. Fa sì che cresca l'idea che non siamo soli. Sto cercando di darmi una mano dicendo che esistono alieni. Eh sì, sto cercando di dirti che non lo so, ma se qualche giorno ci visitassero non sarei sorpreso. Forse è solo modo di stare uniti in un mondo diviso. Sono là fuori. È meglio se pensiamo a tutte le differenze delle persone sulla Terra, che sembrano piccole se veniamo minacciati da invasori spaziali. La verità è che abbiamo avuto un vero contatto con gli alieni e quando lo faremo noi tutti, noi tutti lo sapremo. Tornando allo spazio che circonda le chiedo, c'è intelligenza qui? Credo che la vita sia qualcosa di normale nell'universo. Forse sono molto più intelligenti di noi. Se così fosse, se quella civiltà volesse farci schiavi, ingannandoci per farci pensare quello che vogliono, noi non avremmo alcun controllo su di loro. Voglio dirvi che abbiamo forti indicazioni di vita oltre la Terra, fra qualche decennio. Penso che avremo delle prove nel giro di 20 o 30 anni. Sappiamo dove guardare, cosa cercare. In molti casi abbiamo la tecnologia, possiamo migliorarla. Scopriremo altri pianeti attorno ad altre stelle con la potenzialità di albergare vita nell'atmosfera. Tutto questo accadrà nei prossimi 10 o 20 anni. Vediamo pertanto che il Papa sta seguendo lo stesso copione dell'elite. Lasciano aperta la domanda dell'origine dell'essere umano per promuovere l'idea di una civilizzazione extraterrestre che potrebbe invadere la Terra, qualcosa che secondo il progetto Blue Beam sarebbe possibile attraverso un tipo di tecnologia olografica. Se ancora non lo siete iscrivetevi al canale, continueremo a parlare di questi temi e come sempre grazie a tutti di essere qui e al prossimo video.